Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Gueltaleale, eccoci qui di nuovo con Air Story, proseguiamo allora la nostra indagine, eravamo qui con Ballo, allora andiamo, so che c'è tra virgolette poco da commentare, però è un po' particolare come cosa, allora vediamo se lo trova, no ok, hotel, spippoliamo, spippoliamo, ecco. In realtà in questo caso mi ha fatto venire in mente che possiamo aggiungere confesso, beccato, weekend, confesso, beccato, e volendo anche adesso magari ci esce qualcosa di gelosia, eccetera, no, vacanza, no, andiamo avanti allora. Niente di che. Cosa privata magari. Sì le parole che ci vengono in mente le possiamo lanciare lì. Influenza, vediamo. Vigino. Chiave, morti, aborto, eh. Proviamo prima chiave. Sì. Proviamo anche chiavi. dentro. Vigino. Vigino. Grazie a tutti Ok allora Possiamo mettere guidato Nord C'era anche qualcos'altro Me e l'oro Me e l'oro A Cabina telefonica Ok Eravamo a chiavi Morti Ecco penso che ci saranno No Abbiamo già visto tutto Morto Morto E Anche qui le cose si complicano Perché c'era aborto Quindi Ok Ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sicuramente l'avremmo già scritto però... Ce lo risegniamo... Che era l'ostetrica se non ricordo male... Grazie a tutti. 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 Sì, così poi vediamo pure qualcosa di Florence. Aspetta che stavamo cercando un morto, morti, morto. L'avamo già cercato... Vediamo... Non credo... O forse sì... E anche qui presumo che usciranno cose nuove... E... 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 Vediamo se... E... E... E qua però ci complichiamo la vita se mettiamo... Ecco... E... E... Ehm... Ehm... Vabbè. Vabbè... Beh... Niente di nuovo... perché ricordiamo che qui aveva detto aspetta allora eravamo arrivati qui anche se forse era dove avevo sbagliato a scrivere Eleanor Eleanor si mi ricordavo una cosa ok quindi eravamo qui sospetto un momento perché se così fosse ha detto che vivevano da soli perché loro erano andati a una casa in affitto lei e Simon ma c'era l'altra in soffitta poi le ha detto che comunque aveva ereditato la casa dei genitori e quindi erano tornati lì e quindi quella in soffitta voleva che tornassero a casa non lo so allora noi facciamo supposizioni così è quando andiamo avanti vediamo vabbè penso anche a manite posso abbastare veleno e intossicazione vediamo l'unico vediamo l'unico 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 e adesso mi ha intrippato questa cosa ok no non c'è nient'altro eh due posti contemporanei l'hanno già cercato Glasgow? no aspetta che cazzo no aspetta che cazzo eh vediamo se c'è qualcos'altro proviamoci le cose da cercare no allora Carlo eh Carlo qua no aspetta che cazzo poi ritorniamo a Carlo eh questa forse è la parola sì ok ok grazie a tutti ci dà altri spunti con eh sì perché come detto ti danno altri spunti che ti potrebbero essere utili che credo l'abbiamo già aggiunto qualcos'altro comportamento lasciato lasciata ok altre parole quindi eravamo un'altra cosa che devo cercare ovviamente ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Torniamo a Carl. Abbiamo spippolato intanto qualcosina in più. Ok. 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 Andiamo avanti. Andiamo avanti. Carl. Fatto. Vediamo qui. di Odeon. Certo che ne hanno registrate di clip. Aspetta andiamo avanti. Aspetta andiamo un po' avanti sennò qua ci imparliamo così. Aspetta andiamo un po' avanti sennò qua ci imparliamo così. Sono solo affari Pericolosi Pericoloso Ok no Eric dopo Quispa No E andiamo con Eric allora 14 video Eh quindi qualcuno ce lo schippa Rivediamoci questo Eh il fatto è che Come detto ci fa vedere Solo i primi 5 Ehm Vediamo se riusciamo No eh Eh allora mi sa che ci dovevo Accontentare delle prime viste Eh stessa cosa qui Eh qua andiamo su Quelle più Pesanti E importanti forse Ehm Eh che cazzo Ste cose in sospeso Ah Ehm Vabbè vediamoci Un attimo Oh Poi rendiamo da quello Poi rendiamo da quello Ehm Ehm Allora, Gattodomino. Gattodomino note. Aspetta. Anche l'altra era esistenza. Ok. Quindi eravamo con... Ci manca questo. Scusate. Ok, vabbè dai ragazzi direi che ci possiamo salutare qui perché se no ce ne andiamo avanti per ore e ore. È estremamente interessante la cosa. Comunque siamo arrivati qui, ci mancano ancora un bel po' di indizi da ricercare. Comunque io, come sempre, vi invito a dirmi cosa ne pensate di questo titolo, se vi sta garbando o meno, se vi sta infognando o meno. A me tantissimo. Direi comunque ci vediamo con il prossimo appuntamento con Air Story. Come sempre, appunto, fatemi le sapere la vostra e ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto a tutti da Quel Taleale. Grazie. Grazie.